Una maschera bianca sul volto per far capire come si sentono, invisibili. Loro sono le osso operatrici sociosanitarie che assistono nelle scuole alunni e studenti con disabilità. Un lavoro non facile. A Padova l'Ulss 6 sta per rinnovare l'appalto di servizio e c'è preoccupazione per i nuovi termini. Non abbiamo uno stipendio fisso che potrebbe essere come un qualsiasi lavoratore. I ragazzi sono assenti e a noi ci viene decurtato lo stipendio perché veniamo pagati ore. Essere garantito sarebbe un solo giorno di assenza di un alunno con un rischio di incidenza non da poco su stipendi che si aggirano sui 1000-1200 euro. Ma c'è anche la preoccupazione per l'estate. Si chiedono di essere disponibile per i centri estivi ma spesso ci troviamo che dopo nella settimana il servizio non ci viene garantito. Quindi stiamo sempre aspettando, aspettando e magari non lavoriamo. L'appalto scade a giugno. Quello nuovo con una futura cooperativa riguarderà più di 500 lavoratori in provincia. Evidenzia il sindacato ADL Cobas che chiede risposte all'Ulss. Chiediamo che possano lavorare con un disabile, non come accade spesso anche con due o tre, per cui diventa complicato. Chiediamo che vengano riconosciuti tutti i giorni di malattia che il disabile effettua e che si arrivi a garantire a queste persone uno stipendio per tutto l'anno.